Ciao a tutti e benvenuti su Anzalea Channel Nel video di oggi vi voglio far conoscere un'altra mod che uso che è uscita da pochissimo ed è utile per chi ha l'espansione vita sull'isola infatti questa mod ragazzi che è veramente piccolissima e non è che aggiunge chissà che però con questa mod vi apparirà una notifica quando ci saranno gli eventi, alcune feste particolari tipiche di Sulani ovvero se avete l'espansione vita sull'isola a Sulani ogni tanto vengono organizzati degli eventi, delle feste random però cominciano in diversi giorni, a diversi orari il problema è che non si sa quando iniziano, cioè devi essere fortunato a beccare il momento in cui tu ti trovi lì invece con questa mod, anche se stai in un altro lotto, ma anche se stai proprio in un'altra città quindi non necessariamente la vostra famiglia deve stare a Sulani, potete pure abitare a Willow Creek in ogni caso vi apparirà una notifica che vi avverte di quale festa, di quale evento sta iniziando e dove e adesso rapidamente vi mostro anche il luogo in cui si verificano queste feste infatti qui abbiamo la mappa di Sulani le feste avvengono in questo luogo qui, vedete che non è un lotto in cui ci potete cliccare e andare direttamente però potete ad esempio andare qui alla spiaggia di Onali oppure al baretto che sta vicino e arrivarci ve lo faccio vedere rapidamente quindi andiamo qui alla spiaggia con una mia famiglia al volo con loro che abitano a Sulani e in realtà si trovano già alla spiaggia di Onali perfetto, quindi gioco direttamente con loro e andiamo qui alla spiaggia eccoci qua alla spiaggia di Onali praticamente vi ritrovate il luogo che vi dicevo proprio dietro quindi andiamo qui c'è questo posto in cui c'è questa scalinata e vedete che c'è questo spiazzo e qui c'è un po' di gente perché al momento si sta appunto tenendo uno di quegli eventi di cui vi dicevo quindi gli eventi si svolgono qui in questa piazzetta voi quando vi compare la notifica potete raggiungere questo posto e vedrete che piano piano vi compaiono tutti gli oggetti che serviranno per poi fare questa piccola festicciola e vi faccio vedere anche come vi appare la notifica ovvero come una qualsiasi altra notifica quindi sulla bacheca ecco qua a me è capitata questa notifica qui la grigliata cittadina sta per iniziare la grigliata cittadina dell'isola di Sulani è iniziata viaggia nella città di Onali per partecipare all'evento quindi come vedete la mod è anche tradotta in italiano per cui voi l'avviso ce l'avete in italiano qui vi dice il nome dell'evento e poi vi dice anche dove si svolge nella città di Onali ma praticamente tutti gli eventi si svolgono qui in questo luogo che vi ho fatto vedere e adesso ragazzi nella seconda parte del video vi faccio vedere anche dove scaricare questa mod come inserirla, attivarla nel gioco e vi vado anche a leggere quali sono gli eventi di Sulani che vi notifica questa mod prima però di andare sul sito per scaricare la mod per chi non sa come, non sa bene come funzionano le mod intanto vi faccio vedere come bisogna attivarle quindi andate su opzioni di gioco dopodiché andate su altro e dovete assicurarvi di avere la spunta su queste due voci qua ovvero attiva il contenuto personalizzato e le mod mod dello script permesse quindi mettete la spunta verde qui applicate le modifiche e adesso esco dal gioco e vi faccio vedere da dove scaricare la mod allora ragazzi questo è il sito da cui scaricare la mod ovvero Sims World io vi lascio il link nell'info box in descrizione voi ci cliccate e andrete direttamente su questa pagina in cui vi spiega anche come funziona la mod eccola qua non perderti gli eventi di Sulani con questa mod qui vi spiega praticamente quello che vi ho detto io in breve e qui c'è anche la lista degli eventi che vengono notificati e sono questi qua che vedete ovvero la competizione di pesca il falò in spiaggia la grigliata in centro il pasto in compagnia fiori e musica giornata di divertimento in famiglia e celebrazioni dell'isola e vi dice anche insieme alla notifica viene indicato il quartiere il luogo cioè in cui si svolgerà l'evento e l'abbiamo visto poco fa in gioco anche se tutti quelli presenti al momento si svolgono a Onalani in quella piazzetta che vi ho fatto vedere dalla lista però è esente l'evento covata delle tartaruche dato che questo è un evento che viene già notificato e che a quanto ho capito ragazzi si sblocca quando avrete ripulito al meglio Sulani la spiaggia di Moapelan quando arrivate al terzo livello di pulizia di Moapelan potrete sbloccare questo evento che però viene notificato quindi la mod non notifica la covata delle tartarughe ma notifica tutti questi altri eventi quindi la trovo davvero molto utile non è che aggiunge chissà che al gioco ma sicuramente è utile se volete godervi tutti gli eventi di Sulani quindi adesso andiamo a scaricarla a far partire il download andate qui dove dice scarica sul patron di Scarlett che è la creatrice proprio di questa mod eccola qui qui vi rispiega di nuovo la mod tutte le notifiche che vi dà in inglese noi comunque l'abbiamo già visto in italiano scendendo giù alla fine della pagina ecco che trovate download quindi cliccate su qui su questo link e vi scarica il file direttamente in formato package quindi in questo caso non c'è neanche bisogno di estrarlo con programmi tipo winzip o winrar per cui una volta scaricato il file vado a prendermi il mio file eccolo qua vedete questo che vi dice scarlett, highland, event, notification, eccetera punto package io me lo porto qui sul desktop dopodiché per inserirle nel gioco andate nel percorso documenti electronic cards the sims 4 mods e ecco qua c'è il file resource che dovete lasciarlo perché altrimenti non vi funzionano le mod quindi attenzione a non cancellare questo file a questo punto io vi consiglio sempre di farvi una cartellina rinominandola con il nome della mod così se in futuro vi dà qualche problema oppure non la volete più la trovate, eliminate facilmente quindi io la chiamo ad esempio notifica eventi sulani così mi ricordo subito qual è la mod vado ad aprire la cartellina e ci metto il file che abbiamo appena scaricato e basta non serve estrarre il file perché è già in formato package quindi dalla prossima volta che aprirete il gioco vi trovate già questa mod che vi notifica appunto gli eventi di sulani e per il video di oggi è tutto ragazzi spero che questo video vi sia stato utile chissà se magari in futuro correggeranno questo piccolo problema con un aggiornamento in cui poi lo notificherà direttamente il gioco però per il momento fortunatamente abbiamo questa mod che ci avverte quindi per oggi è tutto mettete like al video se vi è piaciuto seguitemi su facebook e instagram per rimanere sempre aggiornati noi ci rivediamo presto nei prossimi video ciao 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 ciao